Forse potrà apparire un aspetto secondario, marginale e comunque non degno di attenzione filosofica politica. Eppure forse, come diceva Goethe, il diavolo si nasconde nel dettaglio. In particolare, deve destare attenzione il fatto che oggi la potenza economica scatenata, gli animal spirits dell'economia di libero mercato, ciò che Hegel definiva già la bestia selvatica del mercato che deve essere addomesticata, hanno dichiarato guerra al presepe. Perché mai il capitale vincente dopo il 1989 dovrebbe accanirsi contro un simbolo come il presepe, il simbolo della tradizione, il simbolo della cristianità? Ebbene, possiamo ben dire anzitutto che come prima ragione di questa lotta ingaggiata dal capitale contro il presepe figura la lotta che esso capitale ha ingaggiato contro tutte le forme di religione della trascendenza e contro tutti i simboli in cui esse si incarnano. Il presepe è sicuramente uno dei principali simboli delle religioni della trascendenza. Il capitale deve ridurre tutto al piano immanente del mercato come spazio libero per lo scambio delle merci e per lo scorrimento delle medesime deregolamentato, senza più norme di tipo etico, morale e religioso. Quindi il capitale ha dichiarato guerra a tutte le religioni, non è guerra di religione come il coro mediaticamente unificato ripete, ma è guerra del capitale contro le religioni della trascendenza, islam e cristianesimo in primis. In secondo luogo il capitale odia il presepe e in generale la religione della trascendenza, giacché esso stesso sta sempre più riconfigurandosi come una religione, come una teologia economica, come una divinità assoluta, il dio dei mercati che ci chiedono sacrifici e austerità, in nome della quale religione dobbiamo tutti praticare ossequiosamente un rito quotidiano, il consumo, lo scambio e l'impiego della moneta per fare transazioni di tipo economico. Il capitale quindi, come nuovo monoteismo assoluto e immanente, deve neutralizzare tutti gli altri, di modo che esso soltanto venga riconosciuto come tale. In terzo luogo potremmo ancora dire che la religione del libero mercato, il monoteismo assoluto idolatrico dell'economia, con annessa teologia della disuguaglianza sociale propalata urbi e torbi dai teologi della disuguaglianza che sono gli economisti, nuovi sacerdoti del libero mercato globalizzato, ebbene questa nuova religione mondializzata ha dichiarato guerra alla famiglia come prima cellula della comunità etica. Il capitale non vuole vedere la comunità etica in senso hegeliano, ma vuole vedere soltanto trionfare in maniera ubiquitaria il sistema dei bisogni hegelianamente, cioè il libero mercato nei cui spazi l'unica relazione praticata è quella basata sul dout des, sull'insocievole socievolezza, diremmo con Kant, una società cioè che si regge sull'egoismo acquisitivo degli individui che si relazionano tra loro unicamente per massimizzare il loro interesse personale. Secondo l'esempio di Adamo Smith, il birraio che mi dà la birra e il panettiere che mi dà il pane, non in forma sociale ma unicamente per tutelare il loro egoismo, e io stesso mi relaziono a loro con il medesimo obiettivo. Da questo sistema degli egoismi e della dipendenza onnilaterale scaturisce la società insocievolmente socievole, basata sullo scambio e sulla fredda ragione calcolante. Devono essere distrutte tutte le forme di comunità solide e solidale dalla famiglia, come cellula genetica, fino allo Stato sovrano nazionale come potenza eticizzante che garantisce il primato della politica sull'economia. Ecco, il presepe, comunque lo si voglia intendere, è il simbolo della famiglia, è la sacralizzazione della famiglia in forma religiosa, è il luogo in cui viene celebrata la famiglia in quanto tale. Sicché non deve stupire, non deve destare maraviglia il fatto che il capitale abbia dichiarato guerra al presepe. Il capitale sta operando con successo, ed è il caso di dirlo con profitto, per disarticolare tutti i simboli della tradizione religiosa. Si sta verificando sotto il cielo ciò che Martin Heidegger chiamava la sdivinizzazione, cioè la distruzione programmata di ogni forma di sacro ad opera della tecnica scatenata in maniera planetaria. Ebbene, tale sdivinizzazione si traduce puntualmente anche come una desimbolizzazione, come un annientamento di tutti i simboli nei quali è custodito il senso dello stare al mondo dell'uomo, nei quali è racchiusa la specificità della nostra tradizione. Il capitale non vuole alto e basso, immanenza e trascendenza, non vuole simboli che abbiano valenza culturale, vuole solo il piano liscio dell'immanenza concorrenziale del mercato per atomi consumatori che si muovono negli spazi aperti del pianeta ridotto a piano liscio per la libera circolazione delle merci e delle persone. Ecco allora che il capitale ha dichiarato guerra al presepe e vuole vedere solo i templi dei centri commerciali, non vuole vedere il venerdì santo ma solo il black friday, il venerdì santo capitalistico del libero consumo agevolato, non vuole vedere il presepe ma vuole vedere solo i templi della merce per consumatori, non vuole vedere ancora il presepe ma vuole vedere l'albero di Natale con le luci sfavillanti che alludono evidentemente alla civiltà dei consumi e alla fantasmagoria della forma merce come la chiamava Marx e dopo di lui Walter Benjamin. Ecco spiegato dunque in estrema sintesi in maniera necessariamente impressionistica l'odio che caratterizza quotidianamente nel nostro presente, il tempo dell'eterno presente, il capitale in tutte le sue forme e naturalmente i suoi cultori adepti spesso inconsapevoli che pensano che nelle loro esiziali crociate contro il presepe sia custodito un senso di emancipazione e di libertà. Libertà d'emancipazione sì ma sempre solo per il capitale per i suoi agenti.